buongiorno a tutti allora in notturna che è più bello la pizza pazza ho messo insieme una pam e una moni e quindi questo è l'effetto che fa avvicino c'è di tutto e di più c'è spec c'è il prosciutto c'è carciofini e la pizza pazza quindi ve la faccio vedere che così vi viene fame c'è anche un po di figa Gigi c'è anche un po di figa dentro anche va bene tutto fa brodo ce ne ho anche una di fianco comunque quindi non basta mai ragazzoli io vi saluto vi ringrazio voi non potete capire qua che che visione celestiale ho sul lato sinistro della per me che è un figo noi non interessa ma se non potete interessarmi l'alessia tema è impegnata quindi poi non si tocca quindi va bene ragazzoli vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao